Cleos può utilizzare i timesheet e le voci fatturabili per creare parcelle e fatture. Il modo più diretto per creare una fattura è cliccare sul pulsante Nuovo nel segnalibro Parcellazione della schermata della pratica, sezione Documenti fiscali. Dopo aver selezionato quale tipo di documento generare, sarà necessario inserire i dati obbligatori del fascicolo in cui creare la parcella, titolare e destinatario. Se sono presenti voci fatturabili è possibile selezionarle o in alternativa è possibile aggiungerle dal tasto Nuovo. L'inserimento delle voci non è obbligatorio. È possibile comunque cliccare su Continua. In questa videata sarà possibile modificare la data della parcella, il numero e la data di scadenza. Anche in questa fase è possibile procedere all'inserimento delle voci dal tasto Nuovo. In alternativa, è possibile compilare manualmente i dati del riepilogo. Parcelle, note di credito e note spese sono conservate in Cleos come documenti di parcellazione. I documenti di parcellazione possono essere salvati sia in bozze, sia in versione definitiva. I documenti in bozza non vengono inseriti nel sistema contabile e possono essere modificati o eliminati. Quando un documento di parcellazione viene salvato in versione definitiva, Cleos assegna il numero di fattura e lo inserisce nel sistema di gestione contabile. Cliccando su Crea e genera documento, sarà possibile utilizzare i modelli presenti in Cleos, inserire una carta intestata per la parcella e scegliere in quale cartella salvare il documento. In automatico si aprirà il documento Word della fattura. Un timesheet può essere definito come una prestazione o un insieme di prestazioni fatturabili. I timesheet vengono creati durante la gestione della pratica e possono essere usati per generare fatture. È possibile creare un timesheet cliccando sul segnalibro Timesheet all'interno della pratica e cliccando sul tasto più. Successivamente si aprirà la schermata in cui sarà possibile inserire i dati del timesheet specificando titolare, la tipologia, la data e il fascicolo in cui generare il timesheet. È possibile inoltre inserire una descrizione dettagliata e il tariffario da utilizzare. Utilizzando i pulsanti Inserisci compenso e Inserisci spesa, sarà possibile inserire le voci del timesheet. Le tariffe di ciascuna voce fatturabile vengono recuperate direttamente dalle tabelle dei tariffari. Una voce fatturabile può riguardare una prestazione o una spesa. È possibile imputarle in base a tempo, quantità e tariffe per fissare l'importo di ciascuna. Grazie a tutti. Infine, cliccando su Crea timesheet, verrà creato per poi essere parcellato. In Cleos sarà possibile configurare, secondo le proprie esigenze, i timesheet e le voci di fatturazione. Per poter configurare i relativi moduli utilizzando il pannello di navigazione, selezionare il menu Configurazioni Studio. Selezionando il menu Timesheet, in primo luogo potremo verificare le configurazioni generali, come ad esempio il formato durata timesheet, decimale, ore e minuti, e il tipo di timesheet predefinito da utilizzare per il contributo unificato. Nella sezione Tipi sarà possibile modificare o creare nuove tipologie, inserendo il nome, il codice e le voci di parcella da utilizzare. Nella sezione Tariffari, sarà possibile creare nuovi tariffari e modificare quelli già presenti. I tariffari descrivono le tariffe generiche e specifiche utilizzate di default per calcolare il valore economico delle voci di fatturazione. Sarà possibile configurare i tariffari personalizzati cliccando su Nuovo tariffario. La finestra dei tariffari si utilizza per definire i tariffari delle voci di fatturazione. L'elenco dei tariffari è costituito utilizzando il menu posto sopra l'elenco delle voci di fatturazione e delle tariffe. Il menu contiene le seguenti opzioni. Nuovo compenso generico, questa opzione consente di definire una nuova prestazione per una tipologia di voci di fatturazione. Nuovo compenso specifico, permette di definire una nuova prestazione per una specifica voce di fatturazione. Nel segnalibro Parcellazione, in Configurazioni studio, potremo verificare le configurazioni generali, come ad esempio definire le spese generali standard e quando applicare la ritenuta d'acconto. All'interno della sezione Tipi voci parcella, sarà possibile modificare le varie voci di parcella o creare nuovi tipi selezionando Nuovo tipo voce parcella. Inserendo dati come Tipo di voce, Onorario o spesa, Nome della voce, Codice della voce e Categoria di parcellazione. All'interno della sezione Modelli documenti, sarà possibile revisionare i vari modelli delle parcelle utilizzabili in CLEOS, oppure si potranno modificare i modelli già esistenti. Diversamente, nella sezione Modelli, sarà possibile visionare e modificare i modelli per generare i documenti delle parcelle. Cliccando su Import, sarà possibile importare propri modelli personalizzati inserendo i dati. Template Selection permette di selezionare la sorgente da dove importare il modello. Titolo, inserire il nome del modello. Lingua Descrizione Cartella in cui inserire il modello Fogli di stile, ossia la carta intestata da associare al modello Categoria Categoria All'interno della sezione Modelli solleciti, sarà possibile visionare e modificare i modelli per i solleciti di pagamento. Cliccando su Import, sarà possibile importare i propri modelli personalizzati per i solleciti. Template Selection Permette di selezionare la sorgente da cui importare il modello. Titolo Permette di inserire il nome del modello. Lingua Descrizione Cartella in cui salvare il modello Foglio di stile, ossia la carta intestata da associare al documento Titolo Documento, ossia il nome con cui salvare il documento generato e cartella Documento in cui salvare il documento generato. All'interno della sezione IVA, sarà possibile visionare le imponibili IVA utilizzabili e modificarle in caso di necessità. In CLEOS è possibile configurare uno o più soggetti fiscali abilitati ad emettere parcelle. Cliccando su Un nuovo soggetto fiscale, sarà possibile inserire il nuovo soggetto fiscale scegliendolo tra le anagrafiche presenti in CLEOS. In CLEOS è possibile configurare una o più aree contabili. Cliccando su Nuova contabilità, sarà possibile creare una nuova area contabile. Per creare una nuova area contabile, sarà necessario inserire il nome dell'area contabile, l'entità fiscale, ossia il soggetto proprietario dell'area contabile, termini di scadenza per le parcelle, cioè i giorni predefiniti di scadenza del pagamento delle parcelle, e il criterio di numerazione delle parcelle. All'interno della sezione Schede aggiuntive, sarà possibile creare nuove schede personalizzate per la parcellazione. Cliccando sul tasto Inserisci gruppo, una volta inserito il nome del gruppo, cliccando sul menu 3 punti in corrispondenza del nome, sarà possibile creare il campo, scegliendo tra tipologia testuale, numerica, numerica con decimali, data, booleana, menu a tendina o lista di suggerimenti. I timesheet possono essere creati anche al di fuori di una pratica, andando nella sezione generale Timesheet. In questa sezione, sarà possibile visualizzare i timesheet già creati, o cliccando sul tasto più, sarà possibile crearne di nuovi. È possibile gestire i timesheet anche all'interno delle pratiche, nel segnalibro Timesheet. Nel segnalibro Parcellazione, nella prima sezione, sarà possibile visionare una panoramica generale del quadro finanziario della pratica. Nella sezione Documenti fiscali, sarà possibile creare parcelle, proforma, fatture d'acconto e note di credito, cliccando sul tasto Nuovo. È possibile in più visionare i documenti fiscali già creati per la pratica. Nella sezione Note spese, sarà possibile creare una nota spesa all'interno della pratica, cliccando sul pulsante Nuova nota spese. Sarà necessario immettere i dati obbligatori, segnalati con un asterisco rosso, come data e valore della causa. E' possibile utilizzare i parametri forensi e selezionare le fasi da inserire nella nota spese. E' possibile scegliere l'attività giudiziale, la procedura, il grado di difficoltà e il numero di soggetti. Cliccando su Successivo e su Salva ci sposteremo nella sezione per l'inserimento delle spese. Sarà possibile selezionare le spese già esistenti nella pratica o in alternativa crearne di nuove. Sarà obbligatorio selezionare Tipo Data Componente dello studio Importo esterno ed interno Una descrizione per la spesa E al termine cliccare su Crea spesa Successivamente cliccare su Successivo Nell'ultima schermata sarà possibile visualizzare un riepilogo della nota spese e cliccando su Genera documento sarà possibile poi scegliere il modello con cui salvare la nota spese. Scegliere la cartella in cui salvare il documento e cliccare su Genera. Sempre all'interno della scheda Parcellazione all'interno della sezione Voci parcella è possibile visualizzare una panoramica di tutte le voci inserite nel fascicolo e lo stato. Cliccando su Nuova parcella sarà possibile inserire un nuovo documento fiscale. Cliccando su Nuovo sarà possibile inserire una nuova spesa, un nuovo deposito, un acconto passato o generare voci da parametri forensi. Nella sezione Condizioni parcellazione è possibile personalizzare ogni fascicolo con tariffari personalizzati e contabilità diverse. In Cleos è possibile creare anche fatture elettroniche. Sarà necessario aver già creato la parcella in precedenza e selezionandola nel menu Fattura elettronica sarà necessario cliccare su Crea. Nella schermata successiva sarà necessario compilare i dati obbligatori per generare la fattura elettronica come codice destinatario i dati del cessionario committente tutti i dati indicati con un asterisco rosso sono obbligatori i dati della fattura quindi tipologia del documento e causale del documento i dati di pagamento come la tipologia del pagamento beneficiario importo e data di scadenza istituto finanziario e codice IBAN nel caso in cui sia stata scelta come modalità di pagamento bonifico in fondo sarà possibile scegliere se inserire dati opzionali o specifici qui è presente anche la sezione che permette di inserire l'importo del bollo cliccando su Genera fattura elettronica verrà generato il documento in XML e sarà salvato nella sezione documenti del fascicolo una volta generata la fattura elettronica dal tasto Fattura elettronica è possibile inviare la fattura elettronica al sistema di interscambio e conservarla a norma nel portale Fattura dal menu Generale Parcellazione è possibile avere una visione generale di tutte le parcelle di tutte le pratiche sfruttando i filtri divisi per area contabile data e tipologia Inoltre, anche dal modulo Generale è possibile procedere alla creazione di documenti fiscali cliccando sul tasto Nuovo sarà obbligatorio in questo caso indicare il fascicolo a cui collegarlo non è infatti possibile creare documenti fiscali non associandoli ad alcuna pratica inoltre, anche dal modulo Generale